Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Hai un carico di carburante di 90 kg. Ripeto, vai nel serbatoio 90 kg di carburante. Ok, siamo entrati nel terzo giro. Adesso il DRS è disponibile. Grazie. 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 Piloto davanti. Grazie. 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 Accidenti più avanti sul tracciato, non sono ammessi sorpassi, barriere gialle. Aggiornamento carburante è appena sceso a 80 kg, hai ancora 80 kg di carburante. Aggiornamento 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 carburante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.